Il cortile è uno dei pilastri del sistema educativo di Don Bosco. Il cortile salesiano non è solo un luogo fisico, ma è soprattutto uno spazio educativo, caratterizzato dall'incontro e dalla presenza, dove l'educatore e il ragazzo si incontrano nella spontaneità che supera il formalismo legato ad altre strutture, ambienti e ruoli. Dalla cordialità e dal dialogo, dove è possibile la cura di ciascun ragazzo, attraverso la parolina all'orecchio, tanto cara a Don Bosco. All'amicizia e alla fiducia, dove le relazioni crescono e si consolidano. Dalla gioia e dalla festa, dove i giovani possono esprimere la loro vitalità in modo sano. Oggi più che mai il cortile salesiano assume le sembianze non solo dello spazio esterno della scuola, ma anche di tutte quelle realtà reali e virtuali di incontro abitate dai giovani.